Bentornati su Nomamamazzo e bentornati di nuovo nella rubrica Trailer Reaction, una rubrica che non rispolveravo da tantissimo e che ora, pem pem, due video in pochi giorni. Questa non è una vera e propria Trailer Reaction, nel senso che anche in questo caso ho già visto il trailer perché era impossibile non vederlo, è semplicemente una chiacchierata, se vogliamo un'analisi su quello che è il trailer che abbiamo visto tutti in questi giorni. Mi riferisco al trailer di Deadpool 3 dal titolo Deadpool e Wolverine, Wolverine e Deadpool, chi lo sa, vedremo. Adesso lo riguardiamo insieme e poi vi dico due cosette, non sto a dirvi tutte le cose che ci sono nel trailer perché ci sono youtuber, creator più influenti e più bravi di me che lo hanno già fatto, magari in descrizione vi mando anche ai loro link se per qualche ragione viveste sulla luna e non li conoscete. Però vi voglio dire un attimino quelle che sono le mie illazioni, quelle che sono un pochino le mie supposizioni, le mie verità supposte su quello che potrebbe succedere durante il film e conseguentemente a questo film nel futuro dell'MCU. Ma guardiamo il trailer. Tanti auguri a te! Distorzio! No, è distorzio! Ok, d'accordo, va bene! Gli ultimi anni sono stati tosti, di certo, però sono felice. E questo grazie a ognuno di voi. Sono il più fortunato del mondo. Un desiderio, baby. Wade Wilson? Ehi, chi sei? E dovrei spaventarmi. Il pegging non è una novità per me, caro, ma per la Disney sì. Meno male. Signor Wilson, a quanto pare te le sei fatte addosso mentre eri svenuto. Non sono mai svenuto. Chi sei tu? E perché sono... Porcino era incollato. Chiari con me. Sì. Tu sei speciale. Hai una chance. Diventare il più eroico tra gli eroi. Oh, 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 oh. Sai dove vuoi andare a farare, sensei? Il tuo Cinematic Universe sta per cambiare. Io sono il Messia. io sono il Gesù della Marvel sarà un luglio molto caldo aiutami ma che cazzo adoro questa parte ferma qui non stare l'impalato dammi una mano ad alzarmi no anzi faccio da solo grazie a me oh ragazzi 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 tanta roba scusate se sono stato in religioso silenzio ma volevo comunque farvi vedere il trailer tutto fluido anche se l'avete già visto e ora fermarlo ogni tanto come ho fatto col trailer di Ghostbusters allora innanzitutto facciamo prima una piccola chiacchierata veloce poi magari approfondiamo quello che ho visto in pochi secondi c'è questo Deadpool iniziale che festeggia con tutti i suoi amici tra cui appunto Lorena Baccarin che interpreta Vanessa Peter che sono per esempio due membri cioè scusate un membro dell'X-Force che è Peter e Vanessa che è l'amata di Deadpool che entrambi sono morti in Deadpool 2 e ma questo si sapeva già la scena post titoli di coda di Deadpool 2 in cui lui usa il congegno di Cable per viaggiare nel tempo e salvare sia Vanessa che che i membri dell'X-Force è canonica di conseguenza quello che vediamo in questo film non solo ha senso nel senso che ha senso che siano vivi ma ha anche senso che la TVA venga a bussare alla porta di Deadpool perché perché si sa dopo che diciamo dopo che è stato ucciso colui che rimane e che le linee temporali si sono diramate nel diciamo nel multiverso si sa che tutti gli altri universi sono tra virgolette canonici anche nell'MCU l'universo di Sam Raimi con Tobey Maguire è un altro universo ma è nel multiverso diciamo canonico delle linee temporali molteplici tra cui anche quello di Deadpool quindi va da sé che l'universo Marvel Fox di Deadpool sia canonico che poi l'universo Marvel Fox di Deadpool sia canonico alla timeline dei primi film degli X-Men o alla timeline 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 dei film degli X-Men reboot quelli con McAvoy non c'è dato saperlo si presuppone la seconda opzione però non c'è dato saperlo non è importante è importante che Wade Wilson qui incasina le cose e la TVA viene a prenderlo ma se ci fate caso perché proprio una torta di compleanno una torta di compleanno dove lui esprime un desiderio non è mai stato festeggiato il compleanno di Deadpool negli altri film quindi non è un rimando io credo proprio che in un certo senso ci sarà un inside joke in cui lui dirà che il suo desiderio sarà stato proprio quello di far parte dell'MCU o comunque di entrare nel Marvel Cinematic Universe questo giustificherebbe la scena del compleanno non credo sia messa a caso proprio una festa di compleanno notiamo tra le varie cose che per esempio è presente Shutterstar nonostante nel secondo avesse detto che era proprio un coglione non mancherà a nessuno non so probabilmente per rendere meno grave questa battuta probabilmente hanno voluto mostrare che anche Shutterstar è stato salvato banalmente l'attore era disponibile ovviamente mentre c'è un'assenza ma questa la si sa c'è un'assenza manca il barista Weasel l'attore che interpreta il barista Weasel manca ma pare che non lo so non ci siano stati degli screzzi con Ryan Reynolds non si sa sta di fatto che l'attore che interpreta Weasel è così anche nella vita reale c'è un leggero una leggera differenza tra l'umorismo dell'attore che interpreta Weasel e l'umorismo di Ryan Reynolds io credo che Weasel non veda il confine probabilmente ha detto qualcosa di scorretto anche per Ryan Reynolds non lo so e sono mie supposizioni però comunque sta di fatto che in questo film non c'è comunque anche tutti questi personaggi non pensiate che li vediamo per molto anzi io penso che tutte le scene che hanno girato con questi attori siano stati in questa scena che vediamo nel trailer compresa Vanessa per poi sbarazzarcene e andare appunto nelle linee temporali dove viaggerà Deadpool devo dire che la parrucca di Deadpool che ho visto all'inizio la prima impressione che ho avuto era che non fosse il nostro Deadpool che fosse un Deadpool alternativo ormai si sa che ci saranno più Deadpool in questo film e ho pensato che fosse un altro Deadpool invece semplicemente tiene un parrucchino un parrucchino non una parrucca perché quando glielo strappano si vede palesemente che era incollato dal momento che restano dei peli finti sulla testa non so perché questa scelta forse per dare un per sottolineare graficamente che avesse scelto una vita normale conforme quindi per mascherare anche la sua diversità la sua mutazione chiamiamola così il fatto che rompa la quarta parete anche nel trailer forse sta ad indicarci che le cose non sono troppo cambiate con l'acquisizione da parte di Disney del franchise anche di Deadpool anzi già il fatto che nel trailer si fa una battuta sul pegging dimostra che hanno carta bianca anche perché il film se non sbaglio è vietato non so se è minore di 14 o così via sta di fatto che possiamo stare tranquilli sul tono del film non ci vogliono mostrare volutamente troppe scene dal momento che sono già state licate delle scene ambientate appunto dove c'è il logo della 20th Century Fox che dovrebbe essere presumibilmente il vuoto cioè quella zona dove le persone che vengono falciate dalla TVA vanno a finire prima di essere divorate dal mostro nuvoloso e penso che la maggior parte del film o comunque le scene madri del film probabilmente saranno ambientate proprio in questa zona diciamo in questa zona non zona del tempo e vediamo persino la TVA che viene divorata appunto da questo mostro che non fa distinzione diciamo per quelli che sono presenti lì dentro non capisco perché c'è un agente della TVA con delle manette con delle catene può essere appunto che tutti quelli che sono nel vuoto tutti quelli dell'universo fox che sono stati falciati e finiti nel vuoto probabilmente abbiano rapito qualcuno della TVA che sta che vengono appunto indistintamente mangiati dal mostro dal mostro del vuoto la parte che mi piace di più che è una stronzata perché il personaggio medesimo non mi piaceva nella trilogia degli X-Men ma la parte che mi piace di più è vedere il personaggio di Pyro interpretato dallo stesso attore che ha finalmente un costume molto simile al Pyro dei fumetti con anche gli occhialetti per proteggersi dalle fiamme che lui stesso può alimentare perché non le può generare lui l'ha sempre detto le può solo far divampare ecco la cosa che ho adorato è che anche il doppiatore italiano è lo stesso che hanno usato vent'anni fa nella trilogia di Bryan Singer sono molto 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 contento di questa di questa scelta di doppiaggio nel trailer non so se la manterranno ma non vedo perché dovrebbero cambiarla sono felicissimo è un'attenzione ai dettagli che onestamente nemmeno mi aspettavo nella scena in cui vediamo appunto la silhouette di Wolverine e poi Wolverine stesso per qualche secondo che infilza Deadpool mi viene da pensare che questa battaglia diciamo che si svolge nel vuoto sia Deadpool contro appunto i ribelli del vuoto falciati dalla TVA come si presuppone anche in giro appunto quindi Deadpool sia stato reclutato per risolvere la situazione e che il boss finale di questi ribelli altro non sia che Wolverine che poi non so se sarà il Wolverine che abbiamo visto nella trilogia di Singer e conseguenti spin off perché comunque poi si è collegato tutto o un altro Wolverine un Wolverine che indossa appunto la tipica tuta gialla l'uniforme gialla però sembrano scontrarsi non sembrano scontrarsi perché a un certo punto Deadpool fa incazzare Wolverine sembrano proprio essere nemici ed è abbastanza comune per Deadpool lo ha fatto anche negli altri film chiedere al proprio nemico di aiutarlo ad alzarsi quindi non ci sarebbe nulla di nuovo se lui stesse chiedendo al suo avversario di dargli una mano ad alzarsi mi viene da pensare appunto che sia un Deadpool versus Wolverine che non ce lo stiano dicendo nel titolo proprio per non darci troppe informazioni ma dovrebbe essere così è probabile che si alleno in un secondo momento probabilmente proprio quando tutti gli altri magari tutto il resto dell'universo Marvel Fox situato nel vuoto sia stato appunto divorato dal mostro e loro siano gli unici sopravvissuti e in qualche modo debbano cavarsela dal momento che molto probabilmente la TVA poi una volta risolta la situazione gli abbia lasciati lì a morire perché no quindi potrebbe anche darsi che sia successo questo mi piacerebbe vedere appunto poi loro due che viaggiano nelle altre linee temporali a fare un casino assurdo e magari a vendicarsi proprio della della TVA perché no la mia domanda che mi sono posto all'inizio questo film è fatto anche per poi veicolare il personaggio di Deadpool ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe e perché no magari come pensavo qualche tempo fa grazie alla sua presenza e magari anche quella di Wolverine creare il gene mutante anche nel Marvel Cinematic Universe a parte che questa cosa mi è venuta un pochino meno è stata un po' smentita dal fatto che si vocifera che dopo Secret Wars sarà l'universo l'MCU a confluire in un altro universo l'MCU a confluire nell'universo degli X-Men che abbiamo visto nel finale di The Marvels che ha più senso ha più senso che finiscano i supereroi in un universo dove esistono già i mutanti e sono odiati dalla popolazione non ha senso il contrario non ha senso che i mutanti arrivino adesso e la popolazione li odi perché sono mutanti perché la popolazione dell'MCU è già abituata ai supereroi non ha molto senso a meno che non ci sia un incidente diplomatico quello lo potrebbero creare lo potrebbero creare nella storia per giustificare l'odio contro i mutanti però per quanto riguarda appunto invece Deadpool e Wolverine sicuramente loro queste due queste due versioni di Deadpool e questa questa versione di Deadpool non so Wolverine finirà nell'MCU però la mia domanda è che ne sarà dei suoi amici che ne sarà di Vanessa che ne sarà della ceca alla che ne sarà di Dopinder di Colosso di Negasonic andranno anche loro nell'MCU saranno gli unici mutanti nell'MCU oppure Deadpool potrà tornare alla sua linea temporale oppure la sua linea temporale verrà completamente falciata magari noi abbiamo visto questa scena in cui lui viene rapito dalla TVA ma può anche darsi che tutta la sua linea temporale sia stata falciata e che di conseguenza abbia di nuovo perso Vanessa abbia di nuovo perso Vanessa e tutti i suoi amici e quindi si è anche molto molto incazzato potrebbe essere una cosa che magari scopre durante il film cosa che potrebbe poi portare Deadpool ad allearsi con Wolverine e non il contrario contro la TVA e potrebbe essere una giustificazione narrativa per evitare di portare tutti quanti appunto nell'MCU perché non avrebbe senso narrativamente per quanto mi dispiace che Deadpool non abbia più Vanessa poi di nuovo non lo so io da fan vorrei che tutto l'universo di Deadpool confluisse nel Marvel Cinematic Universe ma mi rendo conto che non avrebbe molto senso e quindi penso che optino per questa opzione voi cosa ne pensate fatemi sapere qua sotto nei commenti se quale pensate che sia la strada che adotteranno per far confluire al meglio il personaggio di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe poi non si esclude che magari anche ci sarà un nuovo Deadpool nel Marvel Cinematic Universe perché no anche se credo che Ryan Reynolds possa volerlo interpretare fino a 80 anni quindi non penso ci siano questi tipi di problemi scrivetemi sotto nei commenti io come sempre vi ringrazio per aver ricevuto fino alla fine di questo video con l'inchino e con l'inbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video